ben tornati in moving, mamma che capelli ho, domenica mercatino e oggi c'è anche papa luca e non dite che non lo vedete mai eccola si nasconde poi vabbè e andiamo a vedere cosa e andiamo a trovare cose andiamo a trovare cose oggi c'è il contrattatore ci aiuterà a contrattare giriamo qua all'ultimo prima e mezzo gambette gambette simo madonna povera melissa ma perché si sta alzando? a 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 che che vedete gambe voi si vedo gambe aia mamma mia oddio aiuto cado no dai ma perché non sono buone le barbie da mangiare c'è di tutto c'è di tutto tutto smangiato scusa abbiamo perduto il papaluca ma dov'è ma scusa ma scusa guarda safari gambe vedo gambe lì gambe lì eh ma c'è il signore anche di là ci sono gambe gambe lì e gambe là gambe lì e gambe là gambe lì e gambe là il gallo 80 euro eh vuoi stare sicuro non elle è wh inquiet un Grazie. E' molto simpatica, molto sporca, ma guarda le ciocche, che carina questa. Non hai lasciato niente. Ah, sì, io. Cosa c'è? Sì, sì. E' l'espressa. E' l'espressa. E' l'espressa la roba. Perché vuoi la me? Perché mantè? Guardi. La metto, 25. No, 25. E' da qui, non nemmeno perché. Ogni anno qui di stoppe di rosca, le metto ancora. Aspetta, 30 di arriva. Aspetta, ci prego. Anche il telefono, li, è a mia. Ecco qua. Ciao Dario, sai che c'è con la calcietta bianca con i dischi in dita che già vedete anche un po' 30 euro tutte Sì, questa è quella che è da lui cucina Soprattutto, Matteo diceva, ma è 50 e arriva 30 A 5 il pezzo Ci vediamo dopo ragazzi 3 euro Ragazzuoli, buonasera, è passato qualche giorno dal mercatino Non abbiamo trovato niente, siamo arrivati a casa a mani vuote Vi sembra giusto una cosa del genere? Il video ve lo posterò lo stesso perché so che vi piacciono Quindi anche se non troveremo niente in futuro agli altri mercatini Vi posterò lo stesso i video Di cose si ce n'erano però Non avete visto in che condizioni Ce n'era una Solo che le mani Potevo prenderlo e fare il cambio corpo Ma che sbatti No Quindi Niente Andrà meglio la prossima volta Prossima volta Prossima volta Primo del mese Quindi Saranno anche tornati i ragazzi Che andavano in giro Per Non mi viene in mente la parola Non mi viene in mente la parola Non mi viene in mente Dei fumetti Vabbè Non mi viene in mente Quindi Magari qualcosa loro hanno Però è per PlayStation 4 Niente Questo video è tutto Mi raccomando Like Iscrivetevi E continuate a seguirci Condividete se potete Commentino E niente Ciao Ciao Ciao